Inizio seconda parte del primo tempo, San Cataldese, Piazza Armerina, 1 a 1. Non l'aiuta nessuno, non l'aiuta nessuno, non l'aiuta nessuno, vai tu, valla di nuovo di prima, compagno, arriva. La cosa non l'aiuta, però è una zirpe in mea. Anni. Vado la sfima, così. Vado così. Mi sentito, non vuoi? Cosa pensi, la banana. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.